E' Giuseppe Grimaldi, il segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Martirreno centrale. Il comitato di gestione ha approvato la proposta del presidente Andrea Annunziata che ha presentato ai componenti dell'organo deliberativo dell'autorità portuale il candidato insieme alle esperienze maturate negli anni nella pubblica amministrazione. Nato a San Giorgio a Cremano nel 1967, architetto Grimaldi in servizio da circa 34 anni nella pubblica amministrazione ed è esperto di trasportistica, mobilità ed infrastrutture con competenze amministrative e contabili. Annunziata ha inoltre evidenziato il ruolo determinante nell'autorità di sistema portuale di Castellammare di Stabia e dei suoi dipendenti, modello d'eccellenza. Non dimentichiamo Castellammare con l'industria navale che è la Fincantieri, che è un fiore all'occhiello della cantieristica mondiale. Operai di Castellammare, impiegati di Castellammare con la loro genialità e quanto riescono a produrre, sono stati protagonisti della ricostruzione del Ponte Morandi a Genova. Quindi abbiamo maestranze che non sono di poco conto, eppure combatto con Fincantieri a Castellammare, che ancora non si capisce che progetti hanno per il futuro, ma io spero che non si sognino neanche lontanamente di allontanarsi da Castellammare e lasciare 600 persone per strada, per cui i problemi sono tanti, perché noi parliamo di Salerno e Napoli, ma c'è anche Castellammare. Noi abbiamo una grande miniera a portata di mano, ma se ci lasciano governare e lavorare in serenità, in trasparenza, ma velocemente, noi ricorderemo questi momenti per davvero, riprendendo queste trasmissioni, per dire di che cosa parlavamo un po' di anni fa, mentre oggi non c'è più un disoccupato e questo è il nostro sogno.